Mercurio è un pianeta scarsamente conosciuto in quanto la sua estrema vicinanza rispetto al Sole ne ha impedito l'osservazione classica con telescopi da Terra. La prima missione e l'unica che finora ha raggiunto il pianeta e ha dato immagini risale al 1973 e ha coperto soltanto il 45% della superficie. Di Mercurio non sappiamo come si è evoluto, non sappiamo perché ha un campo magnetico e quindi com'è la sua struttura interna, visto che abbiamo soltanto il 45% della superficie ricoperta da immagini, non sappiamo qual è la sua storia evolutiva attraverso lo studio della craterizzazione globale, quindi non sappiamo esattamente se tutto quello che non è visto è come quello che si vede e sarà studiato da Messenger che arriva tra due giorni e poi da Bevi Colombo che farà la ricopertura e la storia completa.